Sicilia, l'isola del tesoro. Ci siamo seduti sopra e non ce ne accorgiamo. Sì, proprio questo. È stata anche un'espressione che ho ricevuto da un grande artista siciliano, adottato siciliano perché è di origine toscana, che in un incontro molto personale mi abbia a dire, maledetti siciliani, siete seduti sui tesori e non le sapete approfittare. Anzi, li nascondete o li mortificate. Questa è stata l'espressione che mi ha colpito maggiormente perché da siciliano ho visto svanire tutto il mio orgoglio di essere siciliano. Pensandoci, forse aveva ragione. Aveva ragione perché, conoscendo la Sicilia o girando la Sicilia, ti accorgi che godiamo di un patrimonio culturale, paesaggistico e di altissima qualità internazionale e che è scorosciuto dai più, forse dagli stessi siciliani. Noi abbiamo il ben di Dio sotto gli occhi, però non sappiamo sfruttarlo, non sappiamo venderlo, non sappiamo neppure dare una giusta valutazione a quello che abbiamo. Ecco dove è il nostro danno. E qual è il vero tesoro della Sicilia? Il vero tesoro della Sicilia? Ma ne abbiamo tanti i tesori. Diciamo che è la sua storia. Si vende la sua storia, si vendono i suoi monumenti. D'altra parte, diciamocelo bello chiaro, tutto ciò che ci hanno lasciato i nostri antichi, cioè i beni architettonici, monumentali, chiamalo come vuoi, se non sono messi a reddito. Scusate, ma che servono? La Sicilia è talmente variegata, è talmente variopinta. Nella Sicilia vi sono tantissime espressioni culturali, storiche, monumentali, gastronomiche, linguistiche che sono state tutte insieme in grado di creare un'identità assolutamente originale. Oggi si parla di identità siciliana come qualcosa che ci sta un po' stretto, ma in realtà è qualcosa che abbiamo soltanto noi. Però c'è un ingrediente che manca, se vogliamo fare il salto di qualità, che è la consapevolezza. Se noi siciliani fossimo realmente consapevoli di ciò che siamo, ciò che abbiamo, allora potremmo, e il genio siciliano non è secondo a nessuno, e quando andiamo fuori lo dimostriamo, potremmo mettere a frutto questo genio per fare in modo che questo ingrediente in più realizzi le condizioni per un futuro. Io una volta mi sono espresso in turisti, non grazie. Ma io non è che l'avevo contro i turisti, per carità. Però io non volevo i turisti, ma volevo dei viaggiatori. Cioè gente con i soldi, che scendesse nei grandi alberghi, che non mangiasse il palino con la mortadella e la lattina di Coca-Cola e che andasse al ristorante e che come souvenir non si portasse un mafiosa a mafiosa, ma un pezzo d'antiquariato, una cosa importante. Questo è il viaggiare. Noi vogliamo viaggiatori. La rivista Sicilia l'Isola del Tesoro ha questo scopo, diventare lo strumento di comunicazione di quel bello che la Sicilia possiede e di annegarsi in quel mare ideale che è proprio questa cultura siciliana o siciliota, come viene chiamata, e che rappresenta la sintesi della cultura occidentale.